ragazzi scusate faccio questa intro così a modi inserto buttato lì perché è giusto segnalare che nel video di lunedì l'ultimo uscito quello su pixel 8 pro dico un'inesattezza che molti mi avete in maniera sacrosanta segnalato ovvero che pixel 8 pro non ha una modalità pro come nei vecchi modelli invece no la presenza di una modalità pro è stata proprio una delle novità che google ha annunciato addirittura in fase di evento di lancio del prodotto purtroppo non è presente in maniera un po strana da quando si apre il telefono ma subentra con un aggiornamento che non so se fosse presente dal day one o se si è arrivato in un secondo momento ma poco importa colpa mia che non ho controllato verificato questa cosa seguito la presentazione eccetera quindi il confronto di lunedì comunque lo lascio perché secondo me è valido in quanto si dico quell'inesattezza ma poi i file raw a 12 megapixel che avrei comunque analizzato sono quelli a prescindere da dal fatto che escano dalla modalità pro che io comunque lascio in automatico quando faccio questi test o meno quindi secondo me il confronto sui raw a 12 è valido poi seconda cosa sul canale porto sempre i raw a 12 megapixel i 50 non li ho quasi mai portati anche con i modelli che lo consentono proprio perché io non scatto a 50 non ci scatto praticamente mai per tanti e tanti motivi però per dare anche il giusto spazio al pixel alla sua modalità però ho pensato di fare un contenuto un po diverso rispetto a una riprova e basta del pixel ovvero un confronto sui 50 megapixel sui raw a 50 megapixel di quest'anno mettendo in parallelo scatti fatti da pixel 8 pro da iphone 15 pro max e show me 13 ultra controllando soprattutto sul sensore principale ma anche sugli altri per quanto riguarda pixel e iphone come si comportano nella gestione di una risoluzione che è per dei sensori così piccoli comunque è ancora tanto difficile ma che comunque fa effettivamente buone cose in alcune situazioni io non la uso perché ci sono anche diciamo pochi contro ma non poco importanti parleremo anche di questo vedremo poi pro e contro e faremo questo confrontone almeno ributtiamo nella mischia il pixel gli diamo il giusto spazio e scopriamo anche qualcosa però di di nuovo secondo me che può essere interessante detto ciò godetevi quest'anteprima del nubia spero di aver rimediato in questo modo e ci vediamo al prossimo video ragazzoni video flash sto qui dal mitico nando foniro a roma vi ricordo sempre appunto il riferimento per smartphone usati ritiro e vendita e guardate che piccola perla che ha piccola per modo di dire nubia z 50s pro l'unico smartphone con la lente principale da 35 millimetri un piccolo sogno per tutti noi amanti della street e amanti della smartphone photography 35 millimetri su un sensore da 1.159 una cosa del genere quindi non il sensore da un pollice dei super 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 top di quest'anno ma un sensore comunque molto interessante e il vantaggio del 35 mm quindi delle proporzioni molto più interessanti chiaramente molto meno versatile per un uso commerciale perché una lente già un po più impegnativa in termini di fuoco di distanze appunto eccetera ma insomma chi fa fotografia sa cosa significa avere un 35 mm in tasca chiaramente modalità pro stile android iper completa abbiamo il suo raw e ho fatto qualche scatto e me lo porto a casa ma proprio velocissimo qua fuori magari ce lo vediamo al volo vi faccio vedere l'interfaccia ripeto classica interfaccia di android carino c'è uno slider qui che praticamente ci fa subito entrare da schermo spento dentro alla fotocamera vi faccio vedere praticamente muovendo questo slider in giù si apre la modalità street si chiama una roba simile a quella dello shami 13 ultra con direttamente la selezione di quattro ottiche una simulata il 50 mm in realtà non c'è qui abbiamo un 13 35 e un 80 quindi combinazione anche molto interessante bisogna capire sui sensori secondari come si comporta purtroppo come per lo shami modalità street quindi questa modalità rapida non scatta in raw però abbiamo classico doppio clic anche per entrare in fotocamera e in modalità pro volendo da schermo spento ok questo è iphone con il suo 24 mm e questo è il nubia con il 35 mm dovreste notare come le proporzioni del volto sono molto migliori col 35 mm chiaramente ci avviciniamo ad un'ottica che è più consona delle distanze più ridotte rispetto al al soggetto e allo stesso tempo però che ci dà una buona apertura sullo sfondo quindi un'ottica da ritratto e 35 che è super interessante super versatile e quella che non dovrebbe mai mancare in tasca perché ci funziona sul ritratto e ci funziona sui campi larghi e contestualizzare un ambiente molto molto bene quindi è proprio insomma il classico taglio da avere mentre il 24 sì in street si usa tanto sì comunque un taglio ancora molto versatile molto comodo ma è un po estremo per la ritrattistica ovviamente seppur assolutamente utilizzabile quindi non lo so così a pelle sogni un futuro con i sensori principali che moltano lenti da 35 mm disegnerebbe capire nel lungo utilizzo se per quello che ci dà ci deve dare uno smartphone è un taglio ideale da avere come ottica principale o se un 24 deve rimanere l'ottica principale a cui magari affiancarci un 35 anche se a quel punto la differenza diventerebbe così poca da non giustificare l'esistenza di due lenti così vicine è stata una sorpresa inaspettata trovare questo smartphone da nando e come sempre vi ricordo di cercarlo su telegram se si dà la ricerca di uno smartphone usato e anche nuovo perché tratta anche il nuovo su roma e su tutta italia con spedizione e ritiro a livello nazionale modello rarissimo questo stati e nubia z 50 s pro che come vi dicevo porta la 35 mm sul sensore principale io come secondo me molti di noi specialmente i fotografi professionisti ho sempre pensato a questo passo che il mondo degli smartphone avrebbe dovuto fare proponendo come camera principale un 35 mm difficile che avvenga perché è una camera come dire meno commerciale meno usabile meno facile da gestire per l'utente medio il 24 è proprio quel campo giusto quel grandangolo giusto per lo scatto di tutti i giorni per la ripresa selfie di tutti i giorni per la ripresa in generale di tutti i giorni eccetera eccetera fatto sta che interessante questa trovata su un sensore che altrettanto interessante non è un pollice ma ci siamo molto vicini ho fatto qualche scatto di confronto con iphone così buttato lì veramente ragazzi è una possiamo definirla un anteprima semmai arriverà una vera analisi in futuro andiamo subito col primo questo giusto per farvi capire la differenza di taglio per intenderci dalla stessa posizione ho scattato una foto iphone a sinistra 24 mm a destra il nubia a 35 mm iphone era pure in raw max quindi vabbè è un 50 megapixel si vede la differenza di dettaglio insomma bel lavoro che iphone fa 50 megapixel con la sua immagine pulita ma guardate il 35 appunto come naturale che sia come innanzitutto alimenta tantissimo il bokeh lo sfocato abbiamo un'immagine una divisione dei piani molto più netta sotto questo punto di vista considerando poi che il sensore su cui montano queste due lenti è più o meno simile e anche a livello di diaframmi ci siamo perché qui abbiamo un 1.6 addirittura e sull'iphone ricordo 1.8 quindi ecco più o meno ci siamo ed è proprio un confronto diretto della differenza che si avrebbe con 35 mm sotto questo punto di vista il dettaglio non è malvagio di questo di questa lente comunque diventa iphone a 50 emerge in maniera diversa ma non mi dispiace affatto la qualità mi sembra molto buona anche perché insomma le componenti i componenti non mentono scusate questo è il jpeg vi ho fatto vedere finora questo è il ok guardate come lo apre infatti questo è il raw questo è il raw 12 megapixel che mi sembra insomma carino una resa molto naturale non mi sembra ci siano interventi software non male mi sono fatto che è un ritratto anche girando il telefono con le camere principali giusto per rendere l'idea di come si potrebbe gestire un 35 mm sotto questo punto di vista molti di noi moltissimi naturale usare il telefono per vloggare per farsi selfie anche con la camera principale che è una camera di maggior qualità ecco col 35 mm avremmo più o meno questo taglio qui ma io ho il braccio abbastanza lungo ma credo che un po tutti riuscirebbero a gestirselo sotto questo punto di vista non è così inutilizzabile nessun hdr attivo qui l'ho disattivato apposta invece vabbè iphone sappiamo come funziona fa un bellissimo lavoro col suo apple pro raw nella gestione dei toni alti e dei toni bassi dandoci un file con già molta lettura vediamo il dettaglio e ok si è una lente un po più morbida di quella di iphone ricordiamoci che sono scattate a 50 quelle di iphone mentre questo è un 12 dannazione potevo fare 12 12 ho sbagliato secondo me ne esce a testa altissima il nubia secondo me in un confronto 12 12 se la giocano se la giocano parecchio bello lo sfocato chiaramente la cosa bella che emerge anche qui è uno sfocato molto presente vediamo invece un ritratto fatto da me ad una terza persona in questo caso a mir corcangeli un atleta seguitelo su instagram vi lascio il tag qui sotto che si è gentilmente prestato a sinistra iphone a destra in nubia stessa distanza ovviamente fisica dal soggetto vedete come il 35 nei ritratti aiuta moltissimo su questa distanza che è una distanza ideale per fare un ritratto secondo me con un grand'angolo no che è una roba molto utilizzata in street e non solo che noi andiamo a fare il ritratto andiamo ad immortalare la persona e allo stesso tempo andare a dare un bel respiro allo sfondo a contestualizzarla molto e c'è un po di sensazione di movimento in più di immersione in più insomma utilizzare il grand'angolo non spinto ovviamente per fare ritrattistica specialmente street piace molto anche me personalmente piace molto col 35 proporzioni del volto nettamente migliori e nettamente più naturali rispetto al 24 che va un pochettino a creare quell'effetto tipico distorsione dei grand'angoli che si percepisce molto di più sfondo molto più presente riusciamo quindi a isolare meglio il soggetto con un bello sfocato lo vediamo vediamoci il dettaglio e ripeto è un confronto un po impari per la questione megapixel sicuramente iphone insomma non credo che in nubia possa raggiungere quel dettaglio e quella qualità che le lenti di iphone tirano fuori però ripeto sto vedendo una resa molto interessante ragazzi secondo inserto di questo video scusatemi ma avevo dimenticato di fare già che ci siamo un confronto anche a livello un po di recuperi su questo file e non solo legato all'ottica perché vediamo la classica situazione in cui iphone lo conosciamo ci propone dei raw con apple proro applicato come profilo di partenza molto già diciamo pronto con un utilizzo molto giusto però dell'hdr è un file che sostanzialmente al di là poi di una di gusti personali nella lavorazione è già quasi tirato al suo massimo per quanto riguarda la gamma dinamica e recuperi e quant'altro lo vedete perché se mi metto a lavorare su iphone e recuperare un po di altre luci in realtà non esce niente perché già ha fatto il lavoro che doveva fare va praticamente già ad opacizzarmi il cielo idem sulle ombre il volto è già tirato fuori bene se voglio recuperare qualcosa siamo già al limite con i dettagli perché lo fa già lui quindi questo è il grande pro di iphone la grande cosa che ci fa dire che fa delle foto incredibili in realtà fa delle foto già molto pronte anche su euro e molto ben calibrate qui abbiamo più il classico ro un po sporco un po grezzo un po chiuso sotto tutti i punti di vista con ombre appunto un po chiuse e alte luci invece un po più sparate vediamo nel recupero questo nubia sul sensore principale come si comporta ad esempio abbassando le alte vediamo come escono i dettagli comunque qui e della montagna anche vegetazione montagna non malvagissimo non si capisce perché c'è la classica situazione nuvolosa diciamo uniforme in cui tutto il cielo sostanzialmente un enorme patacca bianca e quindi non si riesce a capire bene a livello di nuvole se recupero oppure no ma comunque non mi sembra malvagissimo però non mi sembra neanche un file così eccelso sotto questo punto di vista perché vedo una sorta di opacizzazione barra perdita di dettaglio sui toni scuri va un po secondo me ad impastare ma lasciamo perdere la risoluzione ma vedete come è un po strano nella gestione di tutto quanto adesso non ve lo saprei descrivere al cento per cento ma è come se non ci fossero informazioni sostanzialmente a nessun livello nelle ombre di questo file che non è nel complesso un file spiacevole vediamo ad esempio anche qui no non è un file spiacevole non è che iphone faccia questi miracoli però c'è un qualcosa rispetto diciamo alla media dei super top di gamma che non mi torna sotto il punto di vista un po della gestione dei toni della gamma dinamica soprattutto quindi andrebbe approfondito meglio questo appunto è un'anteprima capiremo insomma un file che mi convince non dico a metà ma poco più di metà e non al cento per cento ecco e in ultimo vi direi un campo lungo via per vedere un po anche sotto questo punto di vista come funzionano 35 a destra di nubia qua il 24 di iphone a sinistra valutate voi un po le differenze che grosso modo sono quelle che sono già emerse vediamocene una sul teleobiettivo non l'ho praticamente utilizzato in questo test ero molto concentrato su 35 mm monta un 80 mm nubia 77 iphone quindi veramente tanto tanto simili qua entrambe a 12 megapixel nubia va verso i 10 su questo teleobiettivo che mi sembra invece ok che un campo lungo non è facilissimo ma mi sembra un po di qualità dubbia forse vediamo anche sul soggetto ravvicinato a quasi parità di megapixel mi sembra ci sia una bella differenza in favore di di iphone quindi esperimento interessante questo nubia è questa cosa di installarci un 35 mm è un discorso enorme quello della scelta delle ottiche da portarsi dietro in base alla tipologia di fotografia di cui parliamo nel caso della street è un'ottica che difficilmente manca nel corredo di un fotografo ognuno poi le sue preferenze ogni ottica porta ad uno stile di scatto a una ricerca diversa quindi non posso dire che con certezza è meglio portarsi un 35 di un 24 posso dirvi che io personalmente mi porterei molto più piacevolmente un 35 mm un 24 specialmente se la seconda ottica di tutti gli smartphone poi è andando verso il grandangolo il 14 mm quindi 14 35 è un'accoppiata che mi funziona molto di più di 14 24 soprattutto è incentrato su questo il discorso interessante spero che il video vi sia piaciuto che sia stata una chicca così divertente grazie ancora andando a 75 link in descrizione per il suo shop come sempre vi ricordo che se vi piacciono questi confrontini che trovate solo qui vi piace insomma essere un po' più accurati sul mondo della fotografia da smartphone visto che si sta evolvendo in maniera super interessante sta finendo spero l'epoca in cui si dice che l'iPhone fa le foto più belle a prescindere o che una cosa deve funzionare bene solo in punta e scatta per Instagram vi ricordo che mi potete seguire mettere un like attivare la campanella e seguirmi anche su Instagram c'è anche il mio sito con i preset Lightroom che mi scordo sempre i preset Lightroom pensati per scatti da smartphone dategli un'occhiata e direi che noi ci vediamo alla prossima